ben ritrovati a quarta di copertina oggi parliamo di nuovo di scrittura al femminile con daniela graglia di san giorgio canavese psicologa e psicoterapeuta prestata alla scrittura che ci spiegherà anche come la scrittura la arricchita come psicoterapeuta in apertura di programma io vi ricordo che potete venire a trovarci a rivarolo contattandomi alla mail deborabocchiardo e occhiocciolagmail.com vi aspettiamo in tutta sicurezza perché nonostante l'emergenza sanitaria si entra con mascherina e la registrazione viene effettuata con un separe di plexiglass tra me e l'ospite quindi anche se grazie alla tecnologia riusciamo a mascherare questo accorgimento in realtà nel nostro studio sono state prese tutte le precauzioni possibili intanto benvenuta daniela buongiorno grazie psicologa e psicoterapeuta prestata alla scrittura che però è diventata una passione vera e che sta diventando quasi un lavoro come come quello tuo primario sì io ho iniziato a scrivere partendo dai tanti casi che vedo e ho pensato di trasferire tutto quello che il mondo psi normalmente più patrimonio di chi si occupano dei sanitari ai lettori quindi a persone che non hanno fatto studi particolari di psicologia e quindi nei romanzi cerco di mettere quelle che sono situazioni problematiche disturbi problemi effettivi che tratto all'interno di un romanzo così che non ci sia la pesantezza del tema ma ci sia il piacere della storia e anche la possibilità di riflettere di immedesimarsi perché poi ognuno ha la sua storia e quindi può trovare degli spunti può trovare un qualcosa uno stimolo per ripensare a se stesso ecco quali sono le problematiche più frequenti che tu ti trovi ad affrontare e che hai inserito nei tuoi libri poi li vediamo a uno a uno perché sono ben tre le opere che ci hai portato sì allora beh intanto il mondo degli adolescenti e il mondo dei genitori quindi l'approccio dei genitori e anche l'importanza che i genitori hanno negli adolescenti come figure di riferimento di base non sono le parti interiorizzate no uno pensa di essere libero ma in realtà i genitori e la propria storia è dentro quindi nel primo libro mi sono centrata molto su questo questo periodo qui il secondo vede un po tutto quello che il mondo dei disturbi alimentari di cui si parla tanto ma non sempre si sa bene e qual è il problema quindi si parla di anoressia però mi sembrava di poterlo contestualizzare bene con dei casi con delle situazioni che sono dentro il romanzo appunto con delle cornici poi molto più leggere che possano rendere piacevole la lettura e poi l'ultimo libro invece è un po sul periodo della pensione quando dopo i 70 anni bisogna riprogrammarsi un po la vita e ritornare ad essere vitali più che mai bene poi li vediamo nel dettaglio intanto ti chiederei tu hai lo stesso editore per tutti e tre libri che è Golem di Giancarlo Caselli che salutiamo e ci sei arrivata grazie a un'altra autrice canavesana che è Elena Cerutti che approfittiamo per salutare a cui facciamo i complimenti perché sta continuando a scrivere anche lei di tematiche che un pochino riguardano proprio la psicologia e problematiche sociali piuttosto importanti come è nata quest'idea di diventare scrittrice di diventare autrice quali sono stati i primi passi che hai fatto anche per dare degli input a chi ci ascolta e magari ha un manoscritto nel cassetto sì io seguivo in quel periodo un caso molto particolare e la cosa che mi aveva più colpito è che la persona in questione portava tutta una sintomatologia senza però collegarla alla sua storia a quello che veramente gli era successo così ho cercato di ricostruire la storia utilizzando la mia perché il primo è un libro autobiografico messo a servizio del lettore e come la nostra storia ci può condizionare e ci fa poi diventare quello che siamo un processo di condizionamento in itinere quindi noi siamo come un blocco di creta forgiato poi dalle realtà dalla famiglia dalle esperienze a tutto ciò che ci accade sì che è un po' quello che è il concetto di inconscio collettivo junghiano no io ho una formazione junghiana e quindi spiegaci cosa significa perché noi ci rivolgiamo a un pubblico vario variegato e può essere anche un'occasione per approfondire argomenti anche perché curiosamente io penso che dello psicologo si dovrebbe andare come si va dall'oculista o dal dentista ma non è così semplice rompere quel diaframma di diffidenza che invece ti separa dallo psicologo proprio forse perché lì metti a nudo la tua psiche la tua anima il tuo inconscio e tutti ne abbiamo un po' paura sì e soprattutto spesso si pensa che dallo psicologo si va solo quando si hanno dei problemi grossi o si è quasi nel mondo della follia in realtà lo psicologo non può occuparsi di quello di quello si occupano gli psichiatri medici o altre situazioni lo psicologo si è un po' uno specchio parlante con la quale dialogare e rispecchiarsi un po' per avere delle nuove prospettive per avere delle altre letture rispetto a delle convinzioni che magari non sono così corrette o non ci sono non sono funzionali alla nostra vita ecco tu prima poi andiamo ad analizzare i tre libri tu prima mi hai detto che comunque c'è anche una parte di te dentro ai tuoi libri oltre a casi veri che hai avuto occasione di studiare come psicoterapeuta e psicologa come fai a non farti coinvolgere dai tuoi casi perché comunque ti colpiscono perché comunque li hai così a cuore da utilizzarli diciamo così tra virgolette per i tuoi scritti per i tuoi romanzi sì allora faccio alcune premesse la prima premessa è che ho più formazioni la prima è una formazione come terapeuta sistemico familiare e questo mi ha sempre permesso di lavorare bene su tutto quello che sono le relazioni all'interno della famiglia ma anche il transgenerazionale quindi l'importanza anche dei nostri avi e delle persone che ci hanno precedute nella nostra storia poi una formazione jungiana appunto jung è stato discepolo di freud e ha creato la psicologia analitica che lavora molto sull'inconscio e su tutto quello che nella nostra profondità negli anni poi ho utilizzato una formazione anche della danza terapia dello psicodramma quindi l'utilizzo del teatro e poi di tecniche sul trauma l'ipnosi e quindi cerco di avere sempre un po di tecniche diverse per far sì che in base a quello che mi si presenta io possa essere ben attrezzata no con una buona valigetta di esperienze e di conoscenze proprio di sì e poi anche di strumenti per per applicarle alle persone ecco quali sono i problemi diciamo in questo periodo di coronavirus in cui vengono a galla paure psicosi drammi familiari perché vedo che tutti occupi molto dei problemi della famiglia anche drammi familiari magari situazioni sentimentali traballanti deflagrano in questo questa situazione di convivenza forzata i campanelli d'allarme le situazioni anche eventuali soluzioni per affrontare una situazione drammatica familiare sono ai me aumentati anche i femminicidi la violenza domestica un quale consiglio possiamo dare quello che sto notando è che i problemi ci sono sempre ci sono sempre stati però sicuramente la convivenza forzata di questo anno ormai ha messo a dura prova molte molte contesti le famiglie i rapporti anche dei tra genitori e figli ci sono molti adolescenti che a differenza di prima sono molto costretti no a stare in presenza del dei genitori e credo che forse riesce a stare meglio chi ha un po più di resilienza chi riesce a non lo so a strutturare bene le sue giornate ad avere degli impegni concreti quindi una sorta di routine quotidiane domenica e un pochino anche dei dei di una ritualità ad accontentarsi a utilizzare non solo e passeggiate che ci sono concesse come valvola di sfogo certo è che se già prima il problema era consistente questo periodo non aiuta e tende a far uscire fuori ciò che prima magari in qualche modo o perché si facevano non so c'erano momenti di svago c'erano gli sport c'erano un po di cose che le persone potevano fare per scaricare per adesso questo è tutto più limitato entriamo nel merito delle tue opere il primo i nodi dell'anima nel 2017 di cosa parla allora i nodi dell'anima parla del primo amore quello che si dice non si scorda mai e la storia di due adolescenti che si incontrano in questo piccolo paese e l'adolescenza e anche la rinascita sociale c'è questo passaggio dal mondo che prima è solo familiare al mondo degli amici e soprattutto quella è l'adolescenza nostra quella degli anni 80 quella che ci vedeva seduti sul sagrato della chiesa sugli schialini in piazza il gruppo le uscite le feste non era la socialità che c'è adesso che è una socialità molto virtuale fondamentalmente e molte sono seduti sì sulla panchina ma ognuno sulla propria pagina facebook e questo è un bene o un male o è semplicemente un segno della società che cambia è un grosso cambiamento che sia proprio solo un bene no perché poi comunque vede le persone molto sole ma sono davvero soli o questo essere già abituati a una socialità virtuale li aiuta in questo momento in cui il contatto col mondo e soprattutto via internet alle volte sì alle volte no perché poi comunque io lavoro da da 12 anni in un grosso liceo come psicologa dello sportello di ascolto e facciamo gruppi nelle classi quindi in questo anno ho avuto un grosso contatto con tanti adolescenti perché liceo è molto grande chiaramente con le videochiamate online perché quello che si può fare però ai ragazzi manca comunque anche l'andare a scuola l'incontro con i compagni trovarsi per mangiare una pizza tutti insieme quindi è vero che hanno una socialità molto online però è anche vero che i rapporti li hanno alle feste andavano gli incontri fidanzamenti gli innamoramenti le confidenze dal vero ci sono i problemi centrali che vengono affrontati dai problemi dai tuoi protagonisti nei nodi dell'anima si nodi dell'anima è proprio questo passaggio al mondo dei pari al mondo degli amici però con tutti quelli che sono gli insegnamenti i valori trasmessi dalla famiglia quindi il rapporto con le figure di riferimenti importanti la nonna i genitori i condizionamenti che hai per le caratteristiche della famiglia in cui sei nata che non sono solo fisici ricordiamo c'è anche una sorta di DNA mentale che ci segue di generazione in generazione di valori per esempio c'è anche il rapporto con la sessualità beh con l'adolescenza c'entra tutto certo certo la libertà di uscire la creazione di una nuova identità perché poi questa rinascita sociale è anche quello no ricrearsi un personaggio riproporsi nel gruppo non più con il bambino che è stato fino alla prima quinta elementare prima media ma con delle nuove caratteristiche che sono importanti ecco molti adolescenti si troveranno a uscire adulti da una pandemia in cui sono entrati adolescenti perché molte persone che sono magari tra le scuole superiori e l'università stanno proprio attraversando questo momento quale consiglio ti senti di dare? io quello che dico a tutti i ragazzi anche perché nel liceo ci sono i ragazzi in prima dai 14 anni fino ai 19-20 per chi magari un anno indietro è quello comunque di trovare il modo di avere piccoli contatti sociali reali siamo stati in periodi in cui eravamo in zona gialla e in quei momenti li ho spronati proprio ad avere dei rapporti loro poi hanno anche dei momenti di videochiamate serali comunque di cercare di tenere un po' i contatti di non isolarsi totalmente ecco tu mi dicevi di assaporare il piacere non lo so delle passeggiate se abitano nei nostri paesi magari di ritrovare un legame con mamma o con papà che magari prima era dato un po' per contato e fare qualcosa con loro quasi visto è un po' rivalità a volte perché l'adolescenza è anche un po' l'età della propria affermazione bisogna un po' inventarsi no? può essere anche non so cucinare insieme la resilienza è quella è un po' una risorsa che uno ha dentro e trasformare in risorse il momento di crisi e soprattutto essere un po' creativi ecco forse il fatto di recuperare un rapporto con la natura può essere uno degli aspetti importanti di questo momento perché stiamo riscoprendo quanto sia importante avere attorno a sé un ambiente in cui potersi rigenerare magari durante una passeggiata nei boschi o perché in città avere un parco dove ritrovarsi dove fare attività all'aria aperta quindi chissà che questo momento di pandemia mondiale ci rieduchi a rispetto dell'ambiente e anche delle piccole cose le cose semplici facciamo un passo avanti perché i tuoi tre libri tutti i golem lo ricordiamo sono le tre diciamo macrofasi della vita umana quindi andiamo un po' più avanti arriviamo all'età della maturità con la cura dell'anima che è questa tua opera di che anno? quello è più o meno del 2019 la protagonista è una donna di 40 anni che ha bisogno di un po' di coraggio per attivare un cambiamento spesso mi capita nei casi che seguo di dover dare energia di dover aiutare delle persone a rinnovarsi a cambiare qualcosa di sé non è facile perché si lascia ciò che si conosce bene anche se non è funzionante e si deve fare un po' un salto nel buio però forse a volte è un buio che poi si illumina meglio ecco qual è la molla che ti spinge a fare quel salto quando hai paura di lasciare quella che è un po' la comfort zone a cui siamo tutti abituati quello che capita in questo romanzo ed è quello che anche un po' io dico sempre alle persone che seguo poi premetto i miei romanzi partono dai tanti casi ma non ci sono i casi reali è tutto ultra romanzato sono solo spunti che io prendo si certo hai preso spunto e poi ci hai ricamato su mettendoci anche del tuo dicevi poi ho tanta fantasia fin da piccola attingendo anche un po' la tua esperienza personale sì 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 ho molta creatività inventiva quello che io dico sempre è di non pensare a cambiamenti d'emblema fare dei piccoli passaggi a volte uno può iniziare a iscriversi a un qualcosa può partecipare a qualche nuova attività può iniziare a conoscere una persona nuova e poi come si dice da cosa nasce cosa no? è un po' come far partire una prima cartellina di un domino e poi tatatatac a seguito si creano delle nuove forme delle nuove conoscenze il cambiamento non avviene di colpo ma dobbiamo iniziare a cambiare piccole cose e poi la sommatoria di tante piccole cose darà un qualcosa di nuovo magari andare a mangiare in pausa pranzo in un bar diverso non perché ci è diventato antipatico il gestore di quello prima ma perché nel bar diverso chissà vedi la locandina di un corso di yoga che ti porta verso ambienti nuovi o trovi l'annuncio di una palestra o di una piscina ti viene voglia di provare quel nuovo ambiente però lì si metto che è quello che racconta il mio libro quindi questa protagonista così per caso farà partire un piccolo cambiamento e da lì si apriranno tante nuove possibilità solo che talvolta bisogna uscire come hai detto prima da questa comfort zone che a volte non è confortevole ma ci dà l'idea di sicurezza che non è a volte una gabbia noi pensiamo che sia un luogo confortevole invece una gabbia che ci siamo costruiti un po' da soli e che abbiamo paura è come un canarino che ha lo sportello aperto e pensa di essere più al sicuro dentro la propria gabbia e di avere più pericoli all'esterno quando invece fuori c'è la libertà e il pericolo è rimanere dentro proprio così il diciamo una delle gabbie dei limiti purtroppo più frequenti è anche la propria cultura di appartenenza tu parli di una fase della vita che è quella diciamo della quasi mezza età perché ce lo diciamo addosso perché anche noi ci siamo un pochino a ridosso e soprattutto per una donna è difficile questo ripartire vogliamo dare magari un consiglio alle donne che ci stanno ascoltando che magari si trovano alle prese con una nuova ripartenza siamo anche a ridosso della festa della donna quindi mi piace l'idea di spolverare questo argomento con un'autrice donna che si occupa anche di problemi psicologici eh sì hai centrato molto perché comunque la prima cosa che io faccio quando incontro una donna è rianalizzare o rivedere un po' quella che è stata la sua mamma che è stato il suo primo modello femminile e come questa mamma che a sua volta è stata prima di lei figlia ci ripropongo un po' un processo transgenerazionale al femminile retroso per vedere quelli che sono stati dei limiti o degli ostacoli o dei valori magari un po' che continuano a riprodursi a riproporsi ma che sono ostacoli allora analizzandoli rivedendoli la persona apprende più consapevolezza di quelli che sono magari i legami che si è data a lei e alla quale invece può dire grazie ma prendendone le distanze è un po' quello che Jung chiamava processo di individuazione quindi è la gratitudine verso gli insegnamenti i valori che ci sono stati trasmessi ma a un certo punto la possibilità di rielaborarli o rinnovarli o eliminarli perché si capisce che hanno fatto la loro parte e eliminarli è una parola molto facile da dire ma non facile da fare tutto è contestualizzato sempre all'interno della storia credo che quello che stai dicendo lo si può fare bene in un percorso di analisi con una psicoterapeuta proprio perché si vanno a vedere bene tutte le tappe, tutti i passaggi e lì si analizza uno per uno e la soluzione la trova il paziente o la trovi tu? allora quello che è bello e che poi è più funzionale è che il terapeuta abbia un timing con il suo paziente quindi riesca a portarlo al suo tempo e che quindi insieme si abbia la convinzione e si abbia la visione di quella che è la realtà diversamente rischi di anticipare troppo e il paziente può spaventarsi può ritenerti magari troppo esagerato il timing è proprio riuscire ad andare un po' a tempo o aspettare il tempo o aiutare che quel tempo arrivi ecco prima di affrontare l'ultimo volume che ci hai portato oggi ti faccio una domanda che diciamo sorge spontanea ascoltandoti e vedendo con quanta passione tu affronti le tematiche dei tuoi pazienti e con quanta passione hai anche affrontato la scrittura di questi tre romanzi ma che in realtà sono proprio anche libri che parlano di problemi psicologici in cui ci si può ritrovare riconoscere e cominciare a pensare magari anche un percorso per affrontarli quanto ti ha arricchita l'esperienza di scrittrice la scrittura come psicologa tantissimo una parte della terapia familiare è proprio viene chiamata terapia narrativa utilizza proprio la scrittura come un canale di analisi di sé e di aumento del proprio insight quindi delle conoscenze della consapevolezza quindi se poi penso che il primo libro i nodi dell'anima è autobiografico quindi ho messo la mia storia di adolescente caratterizzata da situazioni che non racconto perché così se qualcuno ha voglia di leggere non vado a rovinare la lettura infatti io sto toccando gli argomenti ma non la trama perché se li volete li dovete compare e tra l'altro Golem è un ottimo editore distribuisce con messaggerie quindi i libri si trovano in tutte le librerie d'Italia o sono velocemente ordinabili su Amazon o nei paesi qui attorno tutti li hanno di qualcuno c'è l'ebook? no sono tutti in formato cartaceo ecco i nodi dell'anima appunto che il mio primo libro parte da una storia personale e nonostante io prima di fare la terapeuta con gli altri ho fatto un lunghissimo processo di psicoterapia e di analisi su me stessa ho notato che questo io l'avevo fatto quando avevo 20 anni e un lungo percorso su di me ho notato però quando poi a 45 anni mi sono messa a scrivere come tante cose che credevo che fossero ormai analizzate e risolte invece con la scrittura avessero ancora bisogno di essere sviscerate e sistemate i nodi sono proprio quelli i nodi sono un po' le nostre cose interne che non hanno ancora bisogno di essere comprese quindi sì come dicevi la scrittura ha un potere terapeutico molto grande sia su chi scrive sia su chi legge chiaramente e poi per me anche rivedere dei casi scrivendoli poi li devi sviscerare, devi ripensarli tanto ha aumentato ancora di più un po' delle sicurezze rispetto a determinati problemi, disagi che ho trattato ecco tutte le forme di arte sono un po' un modo in cui possiamo ritrovare un po' noi stessi sfogarci, riappacificarci con il mondo dare forma delle ispirazioni a delle idee una delle forme di scrittura che credo aiutino di più perché è la forma più intimista quella in cui diamo più sfogo forse è il diario quanto è importante dire a una persona in crisi di tenere un diario anche per confidarsi con diciamo il più discreto degli amici perché il vostro diario non parlerà mai con nessuno assolutamente sì, io lo faccio spesso soprattutto con i pazienti allora normalmente ci si vede una volta a settimana però poi il mio obiettivo è sempre quello di allungare per non rendere i pazienti troppo legati o dipendenti dall'incontro quindi magari ci si vede ogni 15 giorni, ogni 3 settimane, una volta al mese quello che io dico sempre è tenetevi un diario, scrivete le cose così che le deponete lì, sono al sicuro e poi la volta dopo ne parleremo e spesso le persone trovano molto benefici intanto perché le hanno messe lì, le vedremo insieme e una volta che sono lì sono uscite da dentro come dicevi prima è già un prendere le distanze dal problema perché invece di averlo lì al buio nel cassetto già te lo vedi davanti e lo puoi affrontare vedendolo lì e poi queste arti sono dei medium per canalizzare la nostra anima la scrittura come tutte le arti in genere ha questo potere quindi è un po' una fuoriuscita è uno svuotare un dentro liberandosene per poi dare nuova forma e comprenderlo in modo diverso in analisi come dicevo prima l'analisi ti permette poi anche di avere nuove prospettive di avere nuove consapevolezze e di vedere le cose magari a 360 gradi quando invece uno è incastrato solo con quel pezzo lì sì perché ovviamente come in tutte le cose tu fai spazio come se fosse una casa tu fai spazio dentro di te e per forza qualcos'altro viene a riempire quel vuoto quell'ordine che tu hai creato lo stesso cosa per il caos che normalmente ti permette e ti obbliga ad andare verso una nuova situazione di equilibrio parliamo del terzo volume io non li chiamo romanzi perché mi sembra riduttivo chiamarli romanzi perché sono veramente molto ricchi anche di consigli e di spunti la salvezza dell'anima che invece parla diciamo della cosiddetta una volta si chiamava terza età ma adesso i pensionati non sono più quelli di una volta viaggiano vanno in crociera hanno vite piene e ricche quindi in questo periodo di lockdown le persone di una certa età soprattutto vitali sono quelle che forse si sono trovate più limitate negli spostamenti perché comunque i rischi erano più elevati quindi sono stati costretti a una dimensione domestica un po' più ristretta e limitante quali sono gli argomenti a cui tu dedichi la salvezza dell'anima? allora mi sono ispirata a una signora che ho conosciuto al mare una donna di 75 anni che mi ha autorizzato a raccontare alcune cose di lei lei è stata assistente di Gianni Versace ci ha lavorato nella moda a Milano quando era giovane però una donna ancora bellissima di un'eleganza incredibile e così ho portato la mia protagonista a Saint Paul d'Evans che è un piccolo paesino in costa azzurra tra Nice e Cannes e lì ho creato questa storia ispirata in parte a questa signora e a questo suo mondo passato a Milano nel mondo della moda e mi è piaciuto ridarle vita con una stimolazione notevole perché credo che ad ogni età sia importante essere vitali ad ogni età sia importante avere degli stimoli, degli impegni e sentirsi sempre parte di un contesto quindi l'obiettivo e lo stimolo e anche quello che mi è stato detto dalle tante persone che hanno letto questo è proprio che ti ridà energia, grinta c'è una frase detta da qualcuno famosa che pur che la morte ci colga vivi e allora questo è un inno alla vita sempre a riprogrammarsi, a ricrearsi, a rinventarsi perché è quella energia che ci serve sempre sì anche perché la Fonsa frase amo ormai sono vecchio non esiste, terribile perché comunque la vita vale sempre la pena di essere vissuta cioè la vita ti può riservare sorprese in qualsiasi fase tu ti possa trovare sei tu che devi essere aperta per seguire queste sorprese, queste novità e magari anche andarle un po' a provocare, andarle un po' a cercare stai scrivendo qualcosa di nuovo? stai facendo nuove ricerche? sì, sto scrivendo un nuovo romanzo stimolata dal fatto che una grossa richiesta che ho come psicoterapeuta è per genitori di adolescenti o per adolescenti quindi la convivenza di questo Covid ha creato maggiori dissapori o ha portato in luce tanti problemi che magari c'erano già però riuscivano ad essere gestiti bene perché ci si vedeva meno la casa veniva vissuta magari solo nei momenti dei pasti e quindi sto facendo un romanzo che sia molto centrato sulle difficoltà degli adolescenti e soprattutto dell'essere genitori di adolescenti ecco ti faccio una domanda difficile noi, perché più o meno abbiamo la stessa età siamo cresciuti in un periodo in cui alle elementari addirittura la mia maestra suggeriva di non avere la tv in sala da pranzo per non dedicare troppo attenzione alla tv e trascurare il dialogo all'interno della famiglia e siamo arrivati alla situazione attuale in cui ogni membro della famiglia ha il suo telefonino e spesso e volentieri non alza il naso dallo schermino possiamo dare dei consigli di comportamento anche perché già siamo obbligati all'isolamento dall'emergenza sanitaria se ci autoinfliggiamo anche un ulteriore isolamento all'interno delle mura domestiche veramente si rischia di perdere ogni frammento di umanità e di rapporto affettivo io credo però che questo compito spetti ai genitori ci sono delle regole che comunque vanno date e che può essere che al momento del pasto, pranzo e a cena ognuno lascia il cellulare a un suo posto e il momento del pranzo e della cena sia invece un momento in cui ritrovarsi chiacchierare per carità con il sottofondo della televisione quel che si vuole però darsi dei limiti ma forse dobbiamo prima di tutto darli noi genitori perché spesso si punta il dito sugli adolescenti o sui giovani poi ci sono degli adulti che sono di gran lunga Bisognerebbe dare un buon esempio e quindi l'esempio va dato da tutti cioè darsi dei tempi in cui ci si trova, si parla la durata di una cena e poi ognuno ritorna a fare quello che preferisce però sono delle regole, mi sembra anche di buona educazione Sì e poi c'è l'altro risvolto un po' più drammatico che il lasciare un adolescente o un ragazzino comunque in balia di internet significa anche esporlo a dei rischi perché comunque il cyberbullismo, altri pericoli che possono essere sulla rete la pedofilia e quant'altro sicuramente sono pericoli che sono sempre esistiti sì ma che con l'apertura sul mondo magico di internet si sono moltiplicati, la pedofilia è veramente ormai un rischio concreto anche nell'esposizione delle proprie immagini perché comunque ricordiamo che quando noi pubblichiamo la foto di un bambino su internet non sappiamo quanti e quali occhi la vedranno quindi anche in questo periodo in cui ci sembra di recuperare il contatto con gli amici con i parenti utilizzando facebook o un altro social dobbiamo sempre pensare che stiamo esponendo un ragazzino o nel caso del ragazzino si sta esponendo in prima persona a un mondo che non conosce, cioè non sa quali persone, quali personaggi possono vederlo quali consigli possiamo dare per limitare anche questa che diventa una dipendenza perché io l'ho visto anche su Dimeste ti abitui ad utilizzare il telefonino, a controllare facebook a vedere la tua pagina, a vedere chi ti ha messo il mi piace e poi diventa una droga sì però io credo che soprattutto per i ragazzi, per i giovani, per i ragazzini questo sia un po' una regola data dai genitori lo stesso TikTok sta facendo una pubblicità di promozione sociale in cui richiede ai genitori di avere un controllo, di essere presenti di verificare c'è un limite di età credo proprio che questo sia anche un po' un contenimento che rientra nelle regole genitoriali e i genitori devono riconoscersi quel ruolo lì Bene, il tempo a nostra disposizione volge al termine io vi ricordo i tre libri di Daniela Graglia i nodi dell'anima, la cura dell'anima e la salvezza dell'anima sono tre titoli anche facili da ricordare io vi consiglio di comprarli tutti e tre, di prenotarli in blocco perché saranno collegati uno all'altro e quindi la lettura dei tre volumi sarà inevitabile quindi prenotateli già tutti e tre e invitiamo Daniela a tornare a trovarci quando avrà un'altra opera da presentare le facciamo mille auguri per la sua attività che in questo momento anche un po' difficile, è piuttosto ricca e variegata perché ahimè i problemi anche di origine psicologica con l'emergenza sanitaria sono frequenti se non in aumento io invito anche tutti voi a venirci a trovare in piena sicurezza perché ricordo che anche se non si vede tra me e l'ospite c'è un vetro di plexiglass che ci protegge si entra con mascherina quindi l'ambiente è completamente in sicurezza vi invitiamo quindi qui a Obiettivo News per raccontarci quello che avete scritto le vostre pubblicazioni anche di tipo artistico o musicale è facile partecipare basta contattarci alla mail deborabocchiardo-gmail.com per adesso io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata grazie a tutti